Questa una volta andava forte, adesso sono un po' più forte. Consegnate il cartellino, grazie. La solitava ancora forte, è arrivato da un quarto d'ora ormai. Angelo è arrivato da un quarto d'ora. E lo so. Mi devi più fra le scarpe? Sicuramente. Ecco l'arrivo di Dana Picova, porca Dana, pochi minuti ancora. Buon domenico. Ne abbiamo ancora lungo il percorso, anche perché questa non è il servizio scoppa, questa è la servizio statica. Abbiamo ancora in giro la Rosi, l'Albana, Dario e ne abbiamo ancora in giro. Duecento e venti tre, andiamo. Duecento e trentanue, in giro. E ne abbiamo ancora diversi. Attenzione che stanno arrivando atleti, per favore. Bravi, bravi tutti. Staccate pure il cartellino. Ancora ne abbiamo lungo il tracciato gara. Ricordo che deve arrivare. Altro arrivo, forza. Pochanezino è arrivando. Troppo. Grazie. Poi ci sei che tu La tua stella in albisola Poi do tu La tua stella in albisola La tua stella in albisola La tua stella in albisola Sorridi Ma tu solo sei Sorridi Che il tua stella in albisola Ecco, ma ancora arrivo molto bene e abbiamo ancora da tendere qualcuno ricordo che chiude la gara il tutto solo pochi metri ancora lo dividono dalla linea del traguardo eccolo qua e anche Bobo ha concluso la sua gara bravo Morzarossi che sei sola ricordo cioccolata calda a te Vimbroulet e tante altre buone cose sotto lo stand lo stand con la copertura rossa vicino alla chiesa a vostra disposizione Morzarossi ancora meno di 10 metri 5, 4, 3, 2, 1 Vimbroulet e tante Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e aiutati.